Il Centro Storico di Verona torna ad animarsi con Tocatì, il famoso festival internazionale dei giochi di strada. La manifestazione nasce su iniziativa dell'Associazione Giochi Antichi, per salvaguardare e valorizzare il gioco tradizionale riconosciuto dall'UNESCO come bene immateriale e parte del patrimonio dell'umanità. Paese ospite di questa edizione, l'undicesima dedicata alla tradizione ludica europea, sarà l'Ungheria. Filo conduttore dell'evento sono la cultura e le tradizioni ungheresi a cui si ispirano i molti appuntamenti e giochi in programma, oltre 40 provenienti da varie regioni italiane e dall'Ungheria. Dai tipici giochi come la lotta ungherese, il tiro con l'arco alla lotta con i bastoni e la frusta ungherese, fino ai più italiani, bastone siciliano, bardumpa, pagalost e palla col bracciale. Tanti spazi della città saranno interessati dalla festa, con gruppi musicali, due mostre, una relativa a Ferenc Molnar ed una ai ragazzi della Via Pal, rassegne di film, rappresentazioni teatrali e maratone letterarie, dibattiti e approfondimenti sui temi del gioco.